Buongiorno amici di YouTube, oggi facciamo un contenuto su siti Milan, cerchiamo di capire le innovazioni che ha portato Fonseca rispetto alla partita precedente, i promossi, i bocciati, condividiamo nei commenti tutti i vostri pensieri perché questo signore è un canale di condivisione quindi mi piace condividere anche con voi se avete visto la partita quali sono state le vostre impressioni. Se non l'avete vista ve lo spiego io brevemente come è stata la partita, quello che abbiamo visto anche sentendo le dichiarazioni stamattina dei vari giocatori di Fonseca ho voluto aspettare tutto per avere un quadro generale di questo siti Milan. Che il Milan ha vinto, vincere porta sempre entusiasmo, porta sempre autostima anche se il siti non era il completo ma anche il Milan non era il completo quindi signori cerchiamo di dare giusto peso a questa cosa comunque vincere fa sempre come ho detto prima autostima. Vediamo dalle situazioni tattiche, il Milan ovviamente modulo 4-2-3-1 però c'è stata un'innovazione a livello tattico cioè dalla prima pressione all'interpretazione della fase offensiva è cambiato qualcosa rispetto alla partita precedente. Allora cosa è cambiato? Partiamo dalla fase di prima pressione, il Milan andava ad attaccare con 4 uomini in linea, concedeva solo gli esterni, praticamente era un 4-2-4 quindi quello che aveva detto Fonseca nel prepartita domineremo, cercheremo di attaccare, effettivamente hanno provato a fare qualcosa di nuovo quindi già una manovra diversa, 4 in linea, non so se avete visto la partita se no ve lo spiego io, costruzione siti si mettevano 4 in linea, Salema Kers, Loftus, Colombo e Ciuqueze, 4 in linea chiusi per concedere l'esterno. Quindi questa è stata già un'innovazione rispetto a quello che faceva Pioli che andava però tante volte in modo disordinato in pressione. Qui c'era un criterio logico di andare a fare una prima pressione quindi questa è la prima cosa positiva. Riguardo a quello che è il filtro di centrocampo sì effettivamente qualcosa manca ancora cioè Florenzi con tutto rispetto e Ben Nasser. Sì Ben Nasser ha fatto una discreta partita però ragazzi è ancora più evidente anche dalle imbucate prese dal gol subito come manca un filtro lì in mezzo. Cioè sento parlare di Monocone però signori io vi posso di Monocone che giocatore è un buon giocatore ma è più una mezzala l'ho spiegato in un mio contenuto. Cioè lì tifosi del Milan serve Fofanà cioè Fofanà è un giocatore fondamentale indispensabile cioè non può fare a meno il Milan un giocatore come Fofanà. Io spero che il Milan riesca a chiuderlo se non lo chiude deve andare a prendere un altro giocatore con quelle caratteristiche prima della punta prima del di qualsiasi altro giocatore serve equilibrio serve Fofanà. Quindi a livello di filtro qualcosa si può migliorare. Parte difensiva della difesa titolare molto probabilmente c'era solo Tomori che non mi è piaciuto disattento marcatura. Cioè Tomori levato il primo anno quindi l'anno dello scudetto qualche pecca ce l'ha signori qualche pecca ce l'ha ecco perché il Milan va su Pavlovich. Però avere un'alternativa sia a Tomori che a Ciao molto probabilmente Ciao a quanto si pensa possa andare via comunque Tomori qualche apnea difensiva durante la partita la concede. Ovviamente Terracciano in un ruolo quello di esterno sinistro non suo non può fare delle grandi partite non sono alibi mettiamola a destra proviamola a destra. A destra Calabria vi dico la verità non mi è piaciuto non mi è piaciuto disattento per come vuol giocare il Milan lì serve un difensore difensore. Quindi l'Emerson Royal della situazione perché il Milan insiste su Emerson Royal perché ve l'ho spiegato in più contenuti serve un difensore che sia difensore. Emerson Royal è quel tipo di giocatore lì quindi il Milan deve andare anche a chiudere quella che è la situazione Emerson Royal perché Emerson Royal dà equilibrio. Spesso specie se il Milan gioca così con esterni molto alti in ampiezza serve equilibrio sugli esterni difensivi. Da una parte ovviamente Ciao, Ciao e Teo quindi il Milan si aprirà molto a sinistra e quindi è normale che deve avere equilibrio con Emerson Royal, Ciao, Otto Mori e Pavlovich che devono rimanere lì più i due e mezzo. Che uno ripeto deve essere Fofana assolutamente Fofana Reinders quindi il Milan deve avere minimo 4, 5, 6 giocatori sotto palla. Il Milan è di ripartenza, il Milan è di ripartenza e veloce di qualità anche in uscita perché ho visto qualità in uscita dal Milan dietro. Costruiva 2 più 2, utilizzava molto il portiere quindi questo potrebbe essere, questa è una variante rispetto alla partita di prima, l'utilizzo del portiere in fase di costruzione contro squadre che giocano con due attaccanti. Quindi sempre superiorità 3 più 2 ma non utilizzando un difensore ma utilizzando il portiere. Due difensori più il portiere, la partita precedente era tre difensori più i due centrocampisti. Quindi qua levi un giocatore e metti il portiere in fase di costruzione quindi è già un'evoluzione di quello che è stato il Milan dell'ultima volta. Ci sarà Magnano, ci sarà anche più qualità nel calcio quindi il Milan sta facendo tutto mantenendo questo anche se non hai giocatori titolari ma dando questi input a livello di costruzione e di attacco. Bene, ti ho detto tutta la prima questione, equilibrio tra le due fasi, ho visto un Milan molto più equilibrato, con Pioli lo vedevo sfasato, scollegato. Legato, invece ho visto già una predisposizione alla fase di non possesso di tutti e questa ovviamente è una cosa positiva. Deve essere così anche quando arrivano Big, Leao, si deve sacrificare, Pulisic secondo me ce l'ha, Morata sicuramente lo farà. Quindi queste sono indicazioni importanti. Andiamo sui singoli, promossi e bocciati. Partiamo dai bocciati, vi ho detto non mi è piaciuto tanto Calabria, amnesie difensive, il Milan lì serve un giocatore diverso. Serve un giocatore diverso, Calabria in questo momento qua può essere un'alternativa. Tomori deve migliorare, deve migliorare, sicuramente salirà di condizioni, Pobega, vi dico la verità, a me lì non mi convince. Poi ditemi anche le vostre. Parliamo di promossi. Allora, uno su tutti secondo me, Salema Kers deve rimanere al Milan. Salema Kers non può andare via dal Milan. Sono andato stamattina, la prima cosa che ho fatto, ho detto leggiamo le dichiarazioni di Fonseca su Salema Kers. E mi è venuta subito questa dichiarazione. Sarei contento se rimane Salema Kers, mi piace molto il giocatore. Certo, sul carro di Chukwez, signori, ma quant'è che io sono montato e vi ho detto montiamo. Io penso sia stato il primo contenuto che ho fatto di quest'anno. L'importanza di Salema Kers, andate sul mio profilo Instagram, andate a trovarvi Salema Kers e quello che ho detto. Giocatore insostituibile, di equilibrio. Ma ci sarà un motivo Milan perché voglia tutti i Salema Kers? Ma ti sei chiesto perché voglia tutti i Salema Kers e fa queste prestazioni qua. Quindi Salema Kers, caro Mokanda, rimane al Milan. Se vuoi un giocatore importante ed utile, Salema Kers deve rimanere al Milan. Non ci piove, quindi punto, andiamo avanti. Io mi piacerebbe uscire la dichiarazione di Salema Kers e è incedibile. Questo deve uscire. Milan, fai uscire questo. Salema Kers è incedibile. Ditemi anche la vostra nei commenti perché sotto il mio contenuto c'era stato tanti pareri discordanti. Deve far cassa al Milan. Ha detto di no, che non deve far cassa. Richieste 15-20 milioni. Guardate che 20 milioni di Salema Kers è regalato. Giovane, bravo, duttile, sal sacrificio, tecnicamente bravo, ti può portare dei gol. Quindi migliorato tantissimo con Tiago Motta. Chapeau a Tiago Motta, chapeau al prestito, chapeau a Salema Kers. Rimane promosso Salema Kers. Un altro giocatore che a me è piaciuto ovviamente sono i giovani. Colombo, Nasti, attaccanti bravi, attaccanti giovani. Qui nasce il quesito. Io so che arriva anche Camarda negli USA. Cosa fare con questi attaccanti? Nasti a me mi è sempre piaciuto. È andato un B, ha fatto dei gol. Colombo l'abbiamo visto. Quindi potrebbe essere di tenere uno dei due e fargli fare il vice Morata? Non lo so. Sono giovani, sono bravi. Va capito bene. Io, lo sapete, sono sempre dalla parte dei giovani. Colombo, Nasti o Kaffor per me potrebbero essere già tre giocatori da tenere e fargli fare i vice Morata. Quindi, perché no, valorizzi il tuo prodotto, sempre in prestito, perché se inizia da un prestito Colombo, questo sta in prestito una vita. Sta in prestito una vita e non gli dai mai l'opportunità. Col siti doppietta. Calma, signori. Calma. Rivalutiamolo in un'altra partita. Poi voi ora, sicuramente, no, tattico, è meglio darlo in prestito Colombo. Damo in prestito Colombo. Stiamo calmi. Valutiamo Ciccio Colombo. Valutiamolo in questa preparazione. Non abbiamo furi. C'è un mese alla fine del mercato. Valutiamo Colombo. Vediamo quello che può fare. Poi alla fine Colombo lo dà in prestito. Così come Nasti. Quindi valutiamo bene tutte queste cose, eh, signori. Valutiamo. Un altro giocatore che sicuramente farà bene, scrivetelo su tutti i muri di casa. Qua lo potete, io lo scriverò sicuramente. Samuel Chukueze. Il carro di Samuel Chukueze. Io non so se molti di voi hanno visto la partita. Se non l'hanno vista, vedete gli highlights. Avete modo. C'è un mese. C'è tanti giorni anche prima dell'asta. 15 giorni minimo prima dell'asta. Samuel Chukueze è un giocatore diverso. Anche qui sono andato a leggere le prime dichiarazioni. Mi piace il Fonseca. Mi sento la fiducia del mister. Il problema di Chukueze, ma ve l'ho detto in mille modi lo scorso anno, era Pioli. Pioli l'ha voluto e poi non gli piaceva. Non so per quale motivo. Lo teneva fuori. Lo faceva giocare. Lo levava. 10 minuti. Fonseca ha dato fiducia subito al Samuel Chukueze. E si è dimostrato quel giocatore che io avevo sempre detto Samuel Chukueze. Chukueze. Quindi è utopia. Mi scrivete. Mi avete scritto Tattico Chukueze. Tattico Chukueze. Ragazzi, conta il contesto. Non si discute il giocatore. Montate sul carro quest'anno. Perché finalmente c'è qualcuno intanto che dà spazi ai giovani. Ha detto Fonseca. A me non mi interessa della carta d'identità. Conta quanto rendano un campo. Samuel Chukueze dal giorno 1 ve l'ho detto. C'era un approccio diverso. Vedevo come lo allenava. Vedevo il rapporto. Il dialogo con Samuel. È un giocatore umorale. Ve l'ho sempre detto. È un giocatore umorale. E Samuel quest'anno farà una grande stagione. Una grande stagione. Quindi anche in termini di fantacaccio. Occhio a Samuel Chukueze. Occhio. Lo pagherete tanto all'asta. Di più dell'anno scorso. Non lo so uguale. Perché l'anno scorso era naip. Quest'anno gli è venuta a tutti l'idea di Samuel Chukueze. Però noi andiamo a prenderlo per primo. Perché giocherà tanto. La prima domanda che mi viene a voi sicuramente. Che mi stai guardando. Tattico Pulisic. Dove giocherà Pulisic? Può fare anche il trequartista dietro la punta. Può fare anche quel trequartista lì. Perché ho visto un sacrificio di Samu. Ho visto Ken Fiducia. Ho visto due assist. E difficilmente si priverà il Milan di Samu Chukueze. Visto l'investimento fatto. Può essere la sua stagione. Quindi Pulisic può giocare anche sotto punta. La domanda è sicuramente me la fate. Vi anticipo. Il Milan può giocare con Leao, Pulisic, Chukueze e Morata? No. No. Il Milan può giocare con Salema Kertz, Pulisic, Chukueze. Il Milan può giocare con Salema Kertz, Pulisic, Leao, Morata. Ovviamente ci vuole sempre equilibrio. Più due centrocampisti. Che uno deve essere Fofanà. Assolutamente sì. Fofanà alle letture. Alle letture, all'esperienza. Quindi ci vorrà tanto equilibrio. Ci sarà tanta alternanza sicuramente tra Pulisic e Chukueze. Il fatto di Samarzic. Vogliono valutare bene tutto il Milan. Vuoi valutare bene tutto. E aspettalo Pulisic. Vediamo come sicuramente verrà provato anche il ruolo lì. Quindi ci saranno tante prove di Fonseca. Dovrà valutare. Quindi anche voi siete impazienti sul mercato. Ma il fatto di essere impazienti, ve lo dico perché ci sono stato negli staff, devono valutare. Devono valutare prima di spendere. Se Fonseca reputa Pulisic adatto a quel ruolo lì da tre quarti, sicuramente non arriverà Samarzic. Se Fonseca reputa che Salema Kertz deve rimanere, Salema Kertz deve rimanere. Se Okafor, provato prima punta, può essere un'alternativa importante a Morata, sicuramente Okafor rimarrà come magari rimarrà uno tra Colombo e Nasti, molto probabilmente Colombo. Quindi ci saranno tante valutazioni. Stiamo calmi col mercato. Analizzeremo partita, squadra dopo squadra, partita dopo partita, ma non solo il Milan, anche le altre squadre per capire bene quali sono le situazioni tattiche e gli uomini chiave. Gli uomini chiave. Vi aggiornerò su tutto ragazzi. Vi saluto. Spero che vi sia piaciuto questo contenuto. Metteteci un grandissimo like. Mi raccomando collegati perché questi contenuti sono freschi e belli. Attivate la campanellina, non so se l'ho detto prima o lo ridico. Iscrivetevi al canale. Il Tattico vi saluta.